Non edizione con le Marathon 8 maggio 2011 Attraverso i nostri valori bisogna anche capire che questa è la Maratona delle Marche e dei Valori La Maratona dei Valori in Italia che attraverso il volontariato e un progetto iniziato 9 anni fa sta portando avanti un qualcosa dove aiuta la gente a vivere, dove si migliora la qualità della vita dove con i nostri esempi, il nostro stile di vita, noi proponiamo tutta una serie di iniziative che porteranno a uno sfondo benefico un po' per tutti quindi le finalità che noi abbiamo sono quelle dove si può acquistare e si può migliorare la salute, la qualità della vita e turismo perché qua arriverà, come sappiamo, già siamo a 700 iscrizioni supereremo senz'altro le 1000 dell'anno scorso quindi ci sono buone prospettive per fare un bel evento carico di significati La Maratona dunque partirà da Barchi alle ore 9 e attraverserà tutti i borghi dei centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa, San Costanzo e l'arrivo si farà a Fano, a Marina del Porto, il porto nuovo di Fano quindi sarà, quest'anno stiamo valorizzando anche il tricolore visto che c'è il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia quindi cercheremo ad addobbare tutti i centri storici e sarà, io penso, un bello spettacolo quindi stiamo lavorando perché ci sia veramente armonia su tutto quello che facciamo e sia uno spettacolo carico di significati perché dentro il nostro lavoro ci sono tanti significati attraverso i valori del volontariato e della gente che da anni ci aiuta grazie